Allora mi è stata consegnata questa lettera fatta da un uomo vivo che nel suo modo di voler divulgare ha creato questo, guardate quanto è bella intanto, si chiama Gianni, Gianni Libero, e io la vorrei leggere perché voglio che si fissi e voglio che rimanga per tutti, via. Allora dicevo che vorrei ringraziare Gianni Libero che ha fatto questa lettera e l'ha fatta perché è il suo modo di voler divulgare, è il suo entusiasmo di voler mandare il suo messaggio. La leggo, è brevissima, ma è stupenda. Sono sempre state società di diritto privato e non ti hanno mai tutelato. Svegliati, oggi puoi agire nel pieno della tua responsabilità illimitata ed è arrivata l'ora di smetterla di delegare a qualcun altro le tue scelte. Disponi e dichiara, impara a negare il consenso a ciò che non approvi, tu sei libero, tu sei il valore, tu sei eterna essenza, ora incarnata in corpo vivente di carne, ossa, sangue e spirito, anche percepito nel suono delle parole del tuo nome e cognome. Sei l'universale, sei lo spirituale, sei il quanto, sei il tutto, sei parte del tutto e tutto è parte di te. Tantissime anime da tutto il mondo si stanno unendo per cambiare questa realtà ormai scaduta e giunta al termine del suo compito. La nuova governance, noi e io sono, è a disposizione e sei tu che decidi in coordinata cooperazione, in totale libertà, amore e rispetto verso il prossimo e te stesso. Ricorda, tu sei venuto volontariamente in questa dimensione, su questa terra, stipulando un contratto preapprovato, preautorizzato e prepagato e per questo ti spetta la prosperità del pianeta, dei suoi abitanti e delle sue risorse. Non ci sono stati, governi, frontiere e popoli diversi, ma c'è un bellissimo pianeta con tantissime risorse messe a disposizione del solo popolo vivente, in responsabilità illimitata. Siamo tutti eterna e senza. La procedura OPPT 1776 ci ha mostrato solo la porta e fornitoci gli strumenti perché per la legge universale del libero arbitro tu e soltanto tu puoi oltrepassare la soglia. Ora aspetta ognuno di noi agire nel fare ed essere finalmente liberi. Grazie, grazie, grazie. Non ho resistito, l'ho dovuta leggere, era troppo bella, l'avevo già letta però è scritta così, tutta coi cuori, è stupenda. Dato grazie perché è veramente un pensiero per tutti, perché hai espresso nel proprio modo, è questo il noi è. Lui in quel momento era responsabile di quello che scriveva, è scritto perfettamente, era trasparente perché era la sua verità, era in onore con se stesso perché stava facendo tutto il possibile e era il valore e questo valore non poteva che essere riconosciuto. E' quello che consegnerò a chi vorrà farmi la multa, porterò un'informazione come quelle lettere. Grazie, grazie. Ha scritto Gianni Libero sulla lettera. Vedete quest'uomo? Grazie Gian, grazie. Mi piaceva proprio, adesso ci prendiamo questo gesto d'amore.